Siamo arrivati all'ultima serata, una piazza strapiena, stracolma. È un lavoro che abbiamo coltivato per cinque anni, la rinascita del Carnevale Racalmutese. È un ringraziamento speciale ai carristi, quello che non hanno fatto in questi giorni per creare due splendidi carri e portare la gente in piazza a divertirsi, a ballare, piccoli, grandi, anziani, tutti uniti dalla gioia del Carnevale. La Proloco si è confermata un braccio operativo importante e grazie a questa sinergia amministratori, associazioni, ragazzi, gruppi organizzati oggi c'è uno spettacolo straordinario. Questa sera per questa edizione abbiamo voluto un DJ di fama internazionale, la serata la chiuderà la DJ Renela Bulgara di M2O che ringraziamo e naturalmente ringraziamo anche Gaspare Destro che in questi anni ci ha fatto ballare e divertire come sta facendo oggi. È una giornata di festa grazie a tutti i racalmutesi e ai non racalmutesi che hanno deciso di passare questa splendida serata qui insieme a noi. La quinta edizione del Carnevale Racalmutese è organizzata dal Proloco di Racalmuto e anche quest'anno si sta riscuotendo un enorme successo di partecipanti, enorme successo anche per la realizzazione dei carri che sono sempre più belli e meglio adornati. Quindi, che dire, un Carnevale che a Racalmuto si fa sentire sempre più. Un grazie agli amministratori, al sindaco e soprattutto ai ragazzi che da più di un mese si impegnano e si cimentano nell'arte della realizzazione di queste allegorie. Dopodiché un grazie ai commercianti e a tutti quelli che ci hanno creduto. Questa sera stiamo chiudendo in bellezza, chiudiamo con la presenza della DJ Renella Bulgara e un Carnevale che registra numerose presenze e che ravviva la piazza racalmutese. Questo è l'ospicio che la Proloco ha, quello di far vivere la piazza di Racalmuto sempre più. Direttamente da M2O a Racalmuto per questa serata finale di Carnevale, cosa proporrai? Proporrò una selezione che accontenterà un po' tutti, quindi non aspettatevi solo le grandi dance ma soprattutto la nostra bella musica italiana in versione mash-up, remix. Tra l'altro vorrei presentare ufficialmente il mio bootleg di Salmo e non solo perché ci sarà una sorpresa, abbiamo redictato anche AvaMax. C'è un bel po' di gente, vengono i brividi ma Renella Bulgara è abituata a questo pubblico. Ma sì, poi il pubblico siciliano ragazzi è veramente calorosissimo. Mi sento a casa, per cui l'emozione è grandissima, tantissima, però in qualche modo mi sento a casa, in famiglia. Lanciamo un saluto agli amici di Racalmuto. Ciao Racalmuto, ragazzi vi voglio bene ma soprattutto seguite etracalmuto su Instagram. Ciao da Renè! Ciao da Renè! Ciao da Renè! E' un bravo che ti ha una strada più a me Non è stato Hair, don't know Non mi sono mai lungo, non mi sono mai Non mi sono mai lungo, non mi sono mai E' un chill e il mondo Guardate a condruzione, sai non c'è Vincere! Non mi sono bene, non mi sono! Non madano, non mi sono! Non mi sono! E' un po' che io! Grazie